È veramente un piacere essere qua, non ci vengo molto spesso, non ci sono venute molto spesso negli ultimi 22-23 anni, vedo che le cose continuano a cambiare, continuano a sviluppare campi, spogliatoi, quindi vuol dire che la società sta crescendo anche a livello del settore giovanile, però poi in effetti ci sono tanti ricordi molto piacevoli che vengono a galla. La stondoria è una cosa che ti entra dentro e quindi è anche difficile andarsene, poi chiaro la vita ti porta a volte a dovertene andare, però per chi ha la possibilità di rimanere, infatti vedo che c'è gente che è nata, è cresciuta, vive e morirà qua alla stondoria e credo che sia una cosa molto bella perché c'è un grande senso di appartenenza, un grande amore per la società, per la squadra, al di là di quelli che possono essere i risultati e i cicli che sono più o meno di successo. Sondoria ti entra nel DNA. Oggi mentre arrivavo ho fatto la strada, l'Aurelia e mi ricordo, ho raccontato a chi stava in macchina con me che io al mattino mi alzavo alle 9.55, uscivo di casa alle 10.05 in tuta senza calze perché così è il clima di nervi, di bogliasco, anche d'inverno puoi permetterti una cosa del genere senza giubbotto e mentre facevo la strada mi dicevo come si fa a non arrivare al campo e non aver voglia di fare l'allenamento dopo che hai fatto 10 minuti in macchina e quindi è un posto che mi ha sempre ispirato molto, così come tutti i miei compagni di squadra, un posto veramente dove vivere e fare calcio è un grande privilegio. Il grande vantaggio è che Mantovani interpretava questo ruolo in un modo molto anche educativo e quindi anche il suo rapporto con la tifoseria era un rapporto di grande rispetto ma da parte sua c'era anche il tentativo di educare la tifoseria a un certo tipo di atteggiamento, di comportamenti e naturalmente questo era un modo di fare molto contagioso e quindi noi giocatori avevamo un ottimo rapporto con la tifoseria che si sentiva rappresentata dai nostri comportamenti in campo e quindi non c'era nessun tipo di violenza, c'era veramente grande chimica e quindi era bello segnare sotto la curva, insomma condividere la gioia con i tifosi che poi erano veramente molto partecipi ma in modo molto positivo. L'ambiente ti portava a essere più coinvolto e ci si innamorava di una squadra, noi andavamo a letto col pigiama della Sampdoria per dire e non volevamo mai andarcene. Walter era un fratello per me, il primo gol nella mia carriera professionistica l'ho fatto a Walter, Cremonese e San Benedettese 3 a 1 e lui naturalmente ha protestato perché diceva che era un gol irregolare. Poi quando è andato all'Inter abbiamo cominciato a frequentarci perché facciamo parte della grande Under 21 di Azzelio Vicini, poi in nazionale all'Inter per un periodo non riuscivo mai a buttargli da dentro, poi quando gli ho fatto il primo gol da lì è stata tutta una, tutte le partite 2-3 gol gli facevo, quindi è stato però uno dei portieri più forti della storia del calcio italiano e anche mondiale e sono molto felice che stia dimostrando anche tutto il suo valore come allenatore perché molti inizialmente non lo prendevano molto sul serio, invece è un grande appassionato, ha grandi conoscenze e credo che poi il suo feeling con la Sampdoria, con l'ambiente sampdoriano sia quasi inevitabile perché lui ha la personalità giusta per far parte di questo ambiente. La Samp sta facendo un ottimo campionato, credo anche al di sopra delle aspettative, però bisogna stare con la testa sul pezzo perché se no un campionato così equilibrato perdi tre partite e ti ritrovi in zona di processione, quindi credo che stia facendo un buon lavoro Valte con la squadra e mi auguro che le cose possano continuare in modo migliore e poi vedremo cosa succederà.